Buonasera e ben ritrovati da intorno alle 9. Un'altra tribuna elettorale anche in questa sera in vista delle amministrative del prossimo 26 maggio. Un'altra panoramica sui programmi dei vari candidati e sulle loro diverse posizioni. Abbiamo con noi questa sera e vado a presentarvi Lamberto Nardi, candidato al Consiglio Comunale per il Movimento 5 Stelle. Buonasera e benvenuto. E con noi anche Aldo Milone, candidato sindaco per la lista Prato Libera e Sicura. Buonasera. Allora, benvenuti. Vi ricordo intanto sia a voi che ai telespettatori da casa le regole del gioco, così le chiamiamo. Innanzitutto fino al 23 di maggio tutte le sere, lunedì compreso, daremo spazio con intorno alle 9. Speciale elezioni amministrative al dibattito. Queste le regole. Tre giri di domande con la possibilità per i candidati di rispondere in un minuto e mezzo a domanda. 30 secondi di eventuale replica facoltativa all'avversario e 30 secondi finali di appello al voto. Allora iniziamo subito con il primo giro di domande. Partiamo da Nardi e poi Milone. In un minuto e mezzo i vostri punti programmatici, le priorità del vostro programma. Allora, le priorità del nostro programma sono varie. Partiamo dall'etica, la trasparenza e la partecipazione del cittadino. L'etica in quanto racchiude tutto, cioè il controllo delle partecipate che fanno sì che funzioni un sistema in quanto amministrativo comunale. Controllare capillarmente le spese se realmente sono a favore del cittadino e la qualità dei lavori delle partecipate fatte. Ovviamente c'è la sicurezza che è un tema molto caldo in questo periodo, vedo che tutti si scontrano su tante cose. Però noi siamo obiettivi su quello che realmente si può fare, data anche la carenza della Polizia Municipale di 80 unità. Quindi dobbiamo riorganizzare, cercando appunto di abbattere dei costi, degli sprechi più che dei costi, e vedere di coinvolgerli nell'unità di Polizia Municipale e cercare in questo modo di avviare una sicurezza più controllata e radicata nel territorio. Perché da lì bisogna partire, ma non è solo questo. Ci sono tante cose che nel programma del Movimento 5 Stelle, e anche grazie al livello nazionale, che abbiamo per esempio la Spazzacorrotti che ci sta aiutando e ci aiuterà, oppure abbiamo i finanziamenti triplicati per la videosorveglianza che ha fatto questo governo. Quindi collimeremo queste cose del governo nazionale con appunto la città di Prato. Milone? Sì, i nostri punti programmatici credo che ormai siano arcinotti. Cioè questa lista nata dieci anni fa, questa lista civica, nacque su tre componenti, su tre elementi essenziali. La sicurezza, lotta all'illegalità economica e l'aiuto alle famiglie bisognose. Io credevo che dopo dieci anni fossero superati questi problemi, ma vedo che sono peggiorati in città per quanto riguarda la sicurezza. Noi vediamo scippi in continuazione, furti e quindi lo stesso questore recentemente ha parlato di un'escalation per quanto riguarda i furti. Per quanto riguarda la lotta all'illegalità economica, sapete benissimo, è stato sempre uno dei miei cavalli di battaglia, soprattutto quando era assessore alla sicurezza nella scorsa legislatura. Poi abbiamo l'aiuto alle famiglie bisognose, un altro aspetto, c'è un impoverimento in città che è spaventoso. Quindi le famiglie pratesi continuano a impoverirsi e continuano ad avere dei bisogni reali da soddisfare. Questo è il grosso problema. E' un altro aspetto che riguarda praticamente uno dei punti programmatici, è l'abolizione del ticket nelle strisce blu fuori dal centro storico. Cioè in tutto il resto della città, quindi fuori dal centro storico, io farò un comune dei primi atti proprio all'abolizione di questo ticket. Perché? Innanzitutto per dare anche un aiuto ai commercianti del centro, perché chi va in centro può tranquillamente fermarsi a fare shopping senza avere l'assillo che tra un'ora gli possa scadere o fra cinque minuti gli possa scadere il ticket. Quindi questo è un altro elemento importante. Nardi voleva replicare, 30 secondi a sua disposizione a partire da ora. Repito subito a Milone perché se siamo in una condizione di 80 unità, di carenza di 80 unità di vigili urbani, Milone era assessore dieci anni fa, quindi 80 unità non le fa in cinque anni. Quindi è colpa di tutte e due le giunte. Se siamo in carenza di organico, di polizia, di carabinieri, vuol dire che non è stato fatto niente, non è stato richiesto niente ai governi sia di centro destra che di centro sinistra. Quindi mi fa sorridere la cosa che Milone controbatta ancora sul tema sicurezza. Sono i fatti che parlano, i fatti non li avete fatti, quindi vi riproponete con questa cosa. Io capisco. Milone risponde a sua volta, poi non avrete altra possibilità di rettica. Capisco che il Nardi possa parlare di sicurezza per sentito dire, ma non sa in effetti che cosa è stato fatto sotto la mia giunta. Tu sei ancora un ragazzino e ti capisco. Io purtroppo è una lotta come... Noi abbiamo aumentato l'organico di 18 unità. L'organico carente è storico, proviene dagli anni 70, 80. Ma non muore in realtà. Allora lei praticamente non sa in effetti come funzionano le assunzioni nella polizia municipale. Questo è il problema. Che molti parlano e parlano senza avere conoscenza del problema. Io li ho trasformati da vigili urbani in poliziotti municipali. Voi non avete idea. Io vi capisco, scusate. E vivete come in un'ignoranza, senza ignorare il problema. E allora pace, lasciamo tempo. Andiamo avanti con il giro di domande. Ripartiamo da Milone. Parliamo proprio di sicurezza. Uno dei suoi cavalli di battaglia da sempre. Sono arrivati ormai da poche settimane i vigili di quartiere al soccorso. Sei agenti a coppia in tre turni giornalieri che pattugliano la zona e raccolgono le segnalazioni dei cittadini. Le domande. È una misura utile? Servirebbe altro in un minuto e mezzo? No, io uno dei primi atti che farò, se dovessi fare il sindaco, richiederò l'arrivo dei militari. L'arrivo dei militari in città verrebbero impiegati non come l'ultimo contingente in funzione antiterrorismo, ma in funzione con il famoso progetto Strade Sicure, quello che si portò avanti con la Giunta Scendi. In che cosa consisteva? Consisteva nel avere una coppia di militari con un poliziotto e un carabiniere, con pattugli appiedati che vigilano il territorio, lo controllano, così si controlla. Non stare fermi di fronte a un obiettivo, che poi questi obiettivi terroristici, non ho capito quali erano a Prato, e quindi conseguenza è tenere lì sprecati. E soprattutto dare una maggiore visibilità sotto l'aspetto della presenza di queste coppie miste nelle periferie, perché è importante. Oggi il soccorso, io ho visto che praticamente questi poverini, due vigili al soccorso, ma sapete, le situazioni critiche non sono solo al soccorso, ma sono per una strada mettere due vigili. Oggi ogni circoscrizione è quasi una siena, una piccola siena, e c'è bisogno di una presenza diversa. Ecco perché, poiché tu non riesci a conciliare questa presenza con un aumento degli organici, anche di polizia o carabiniere, perché purtroppo dipendendo da Roma abbiamo fatto 100.000 richieste per avere il passaggio di fascia della questura da C a B, e non è mai avvenuto. Quindi tu devi sopperire con la presenza di militari, che svolgono un ruolo importante proprio nel presidio del territorio. Con Nardi invece vorrei affrontare la questione Creaf, perché di recente il vostro candidato sindaco, Carmine Maioriello, ha fatto appunto un sopralluogo in via galcianese, definendo il centro l'emblema del fallimento del PD. Nel mirino poi è finita anche la scelta della regione di acquistare lo stabile, lo ricordiamo, per una cifra pari a 5.700.000 euro. Ecco, le chiedo, come giudica il Movimento 5 Stelle, in questo caso lei che si fa portavoce, l'operazione del Creaf e come avrebbe gestito il Movimento 5 Stelle questa operazione? Allora, l'operazione del Creaf, come sappiamo, già dall'inizio è stata un fallimento, è stato un buttare i nostri soldi, perché alla fine sono i soldi dei contribuenti, buttare su una cosa dove già dall'inizio si era rivelato un fallimento, tant'è che il Consiglio Comunale è stata più volte attenzionata a questa cosa senza nessun ascolto. Ovviamente parliamo di cifre, abbiamo 27 milioni di euro, con 27 milioni di euro quante cose potevamo fare per la città di Prato sono tantissime, reali, invece c'è questa cosa che si è creata, questo pozzo senza fondo, dove tra l'altro dobbiamo pensare anche a una cosa che a giugno il candidato uscente e il ricandidato sindaco dovrà affrontare comunque un processo, è un'anomalia che non c'è in estate in nessuna città italiana, io penso anche in Europa a questo punto, un'anomalia del genere, quindi dobbiamo renderci conto e molto probabilmente chi ha amministrato questa città per decenni non ha ben chiaro quello che ci vuole e fa i conti in tasca senza interpellare i cittadini, questa è la cosa importante, fare scelte senza ragionare, secondo noi è sempre stato un boomerang alla fine, infatti adesso a giugno avrà un processo bifonico. Nardi di nuovo e poi Milone, capitolo politiche giovanili e familiari, se ne parla forse troppo poco, quali sono le vostre proposte al riguardo? Partiamo appunto da Nardi. Allora, io in quanto comunque giovane, anche padre e bambine, vedo che ci sono tantissime cose che si potrebbero fare a livello sociale, per le coppie giovani appunto, penso agli asili nido che costano tantissimo per delle famiglie appunto giovani, di coppie giovani, quindi si potrebbe innanzitutto lavorare su uno sgravio fiscale molto consistente in modo che appunto oggigiorno dobbiamo lavorare in due, almeno se si vuole tirare avanti la famiglia in una maniera idonea, quindi dovremmo cercare appunto di sistemare queste cose basilari, per avere una famiglia bisogna avere anche dei servizi, dato tutte le tasse che comunque paghiamo. Altre cose per i giovani, i più giovani, vedo che hanno difficoltà nell'avere la possibilità di accesso a microcrediti, per avviare una piccola azienda, perché comunque oggigiorno è difficilissimo ottenere credito e quindi potremmo lavorare molto bene su quello, basandoci appunto sul fatto di fare una spending review di tutti gli sprechi che vengono fatti a livello comunale. Un'altra cosa che si intreccia, la mobilità per dire serale, sarebbe bello che a tanti ragazzi, invece di farli prendere la macchina, creargli appunto dei mezzi pubblici che li trasportino dalle periferie al centro, o comunque li facciano evitare l'uso dell'automobile, sarebbe già una cosa anche buona per evitare a volte incidenti. Milone? Ecco, noi ho partecipato lunedì al forum sulle famiglie e da lì ho tratto spunto, nessuno, anzi mi sono meravigliato perché alcuni punti, alcune domande che venivano poste, rientravano in un programma mio del 2009 come l'accesso ai mutui, cioè quando io nel 2009 dicevo bisogna aiutare le giovani coppie, con che cosa? Favorendo l'accesso, facendo da garante soprattutto nei confronti degli istituti bancari per poter accedere, perché capita spesso che giovani coppie pur lavorando, avendo un reddito fisso, vengono rimbalzate queste coppie dalle banche, perché vogliono 10 mila garanzie per poter, il Comune potrebbe avviare un'azione del genere, abbiamo previsto nel programma gli aiuti all'impresa under 40, credo che sia indispensabile anche questo, in che senso? Dando dei contributi triennali per i giovani under 40 che vogliono avviare un'impresa e degli sgravi fiscali, soprattutto in materia ereditari, perché è l'unica tassa che può fare, su cui il Comune può agire, ma dare dei contributi triennali è importante, perché soprattutto è l'inizio per ogni giovane imprenditore, le difficoltà le trova all'inizio, quindi affiancati dall'amministrazione comunale con dei contributi, tu lo porti come un bambino, a un certo punto dopo 3 anni lui deve camminare da solo, poi se è capace è bene, altrimenti mi dispiace, vuol dire che non è riuscito a sfondare in quel settore. Il momento dell'appello finale al voto, quindi rivolgendovi direttamente ai telespettatori in 30 secondi, perché votare Milone, Prato libera e sicura alle prossime elezioni comunali? Guardi, io in più occasioni ho detto che perché bisogna votare, io vorrei che l'elettore pratese diventasse più maturo, nel senso che non deve votare il soggetto perché veste una casacca, casacca intendo politica, no, fa parte di quella lista X o Y, deve votare il soggetto se lo ritiene capace di risolvere le problematiche e i problemi pratesi, è capace di amministrare, al di là può essere la lista civica, può essere un partito, ma deve misurare le capacità professionali del soggetto. Perché invece scegliere il Movimento 5 Stelle? Allora, dopo 5 anni di opposizione siamo pronti a governare, abbiamo dimostrato anche a livello nazionale, siamo l'unica forza che veramente ascolta i nostri cittadini e ascolta le aziende, gli artigiani, lo dimostra il fatto che il reddito di cittadinanza, lo spazzacorrotti, il decreto di dignità, insomma abbiamo tutte le carte in regola per avere il coraggio di cambiare questa città che è ormai amministrata a decenni da persone che sono incollate alla poltrona. Bene, siamo arrivati al termine di questa tribuna politica, grazie allora ai nostri ospiti, Lamberto Nardi, candidato al Consiglio Comunale per il Movimento 5 Stelle, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E grazie a Aldo Milone, candidato sindaco per la lista Prato, Libera e Sicura, grazie anche a lei. E grazie a tutti voi per averci seguito, intorno alle 9 speciale elezioni amministrative torna domani sera dopo il nostro telegiornale, come sempre su TV Prato. Arrivederci. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS